Questo video riguarda i migliori 3 fotocamere Action Cam A360 Laurea. Il vincitore della qualità nel nostro fotocamere Action Cam A360 Laurea va al VUA bastone. Il cavalletto può essere facilmente convertito in un bastone per selfie. Realizzato in robusta struttura in lega di alluminio, pesa solo 500 grammi, è molto robusto e compatto, facile da trasportare. La testa a sfera dal design unico fornisce una rotazione di 360 gradi e un'inclinazione massima di 180 gradi per offrire un angolo di visione perfetto. Due diversi angoli di regolazione delle gambe disponibili, regolando la stabilità del supporto per soddisfare le vostre esigenze su terreni irregolari. Il treppiede regolabile si estende da 17 pollici a 55 pollici, ed è possibile bloccarlo alla lunghezza desiderata come necessario per ottenere una ripresa perfetta. Questo permette di usarlo come un treppiede da tavolo pieghevole o di appoggiarlo sul pavimento. Il diametro della testa a sfera più grande di 15 mm è in lega di alluminio, aggiungendo alla sicurezza e alla stabilità generale della testa. Il tubo della gamba in alluminio più spesso e più forte con blocco di torsione migliora ulteriormente la stabilità su un'ampia varietà di superfici. La clip del telefono è antiscivolo e la dimensione può essere regolata da 1,9 pollici a 4,1 pollici che tiene la maggior parte degli smartphone, compatibile con iPhone 11 undicesimi Pro. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è ilio-ulio treppiede. Y-O-H-O-O-L-Y-O-Cavalletto per smartphone è realizzato in lega di alluminio di alta qualità e materiali ABS. Può essere utilizzato come bastone selfie per telefoni cellulari, nonché come treppiede per cellulari o fotocamere per riprese video, trasmissioni dal vivo e registrazioni video per mantenere la stabilità dell'immagine e liberare le mani. Cavalletto per smartphone la batteria a litio incorporata del telecomando Bluetooth supporta la ricarica USB. Dopo che è stato completamente caricato, può essere utilizzato 2000 volte. Il raggio di connessione Bluetooth di 10 metri rende lo scatto delle foto più comodo e veloce. Il treppiede per cellulare è diviso in 5 sezioni. L'altezza può essere regolata liberamente in base al campo di utilizzo. Intervallo di regolazione è da 37 a 137 centimetri. La lunghezza più corta è di 37 centimetri. Può essere facilmente inserito nella borsa, molto comodo per il trasporto. Il del cavalletto per smartphone può essere ruotato di 360 gradi a sinistra e a destra e ruotato liberamente di 180 gradi in alto e in basso. La gamma di larghezza regolabile del supporto del telefono cellulare è 5, da 5 a 10 centimetri, per fornire il miglior angolo di ripresa. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nel fotocamere Action Cam A360 Laurea è il Chewer Bastone Selfie. Il nostro bastone selfie raggiunge 100 cemme, che consente di scegliere più angoli di ripresa. Piegato ha una lunghezza di soli 19 centimetri, abbastanza leggero, peso 196 grammi, facile da mettere nella borsa e portare con sé. La vite un quarto è inclusa. Quindi il selfie stick è adatto per fotocamera o GoPro. Per GoPro dovrebbe acquistare l'adattatore GoPro. È compatibile con smartphone 4 6,2 pollici. Stabilità compatibile. Estensione è abbastanza portatile rispetto ad altri selfie stick comuni. Il bastone selfie è dotato di un interruttore di scatto remoto Bluetooth e treppiede portatile, la distanza Bluetooth fino a 10 metri offrendoti la possibilità di scattare foto facilmente in ogni posizione. Può scattare un selfie o disconnettere il controller per scattare e registrare foto di feste. In rotazione a 360 gradi per scegliere la modalità fotocamera orizzontale o verticale, può essere ruotata verticalmente di 220 gradi. È possibile regolare gli angoli secondo necessità per soddisfare meglio le diverse esigenze. Come trasmissione in diretta, scattare foto di gruppo come feste, laurea, matrimonio, viaggi. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.